Ringrazio per l'invito, è un piacere essere qui per il secondo anno di seguito e cercherò di far luce sinteticamente su quelle che sono le novità recenti nel campo della biometria ottica. Biometria ottica che è diventata importante, il calcolo della lente diciamo in generale ha assunto ormai un'importanza quasi pari alla chirurgia, all'atto chirurgico in sé in ambito della cataratta, nel senso che la cataratta si è gradualmente voluta verso, in una gran fascia di pazienti, non in tutti ovviamente, verso una forma di chirurgia refrattiva in cui fondamentalmente noi oculisti l'abbiamo venduta un po' come chirurgia refrattiva, l'eseguiamo come chirurgia refrattiva e di conseguenza il paziente si aspetta un risultato refrattivo per cui può capitare che se rimane miope per metro plastigmatico di 0,75 diottrie il paziente non è contento e affrontare un paziente scontento per un più 0,75 non è bellissimo ma tocca purtroppo farlo, è esperienza di tutti. Quindi per cercare di ridurre al minimo queste sorprese che adesso non ci sono in queste diapositive ma sappiate che sono usciti tutta una serie di studi negli ultimi due anni molto grossi, il più grosso con addirittura 17 mila occhi, in cui utilizzando le macchine migliori, le formule migliori, facendo tutto nella maniera migliore possibile, comunque noi non andiamo mai oltre l'80% di occhi con un errore nella predizione delle sfere equivalente inferiore a 0,5 diottrie. Quindi per quanto bravi, preparati siamo, per quanto abbiamo investito in conoscenze e in strumenti non avremmo, è difficilissimo riuscire a ottenere più dell'80% di occhi con un errore inferiore della mezza diottria. Se poi andiamo agli estremi, miopia e ipermetropia, questa percentuale dall'80% scende al 60%. E questo è un discorso che noi chirurghi dobbiamo avere in mente, chiaro quando ci approcciamo alla chirurgia della cataratta in senso refrattivo. Come fare a ottenere questi risultati? Un primo passo è quello di avere delle macchine affidabili che ci diano delle misure ripetibili. Tutto è... la biometria ottica è partita nel 1999 con l'introduzione dello Yolmaster da parte della Zeiss, che per dieci anni l'ha fatta da padrone assoluto, nel senso che non c'era nessun altro concorrente, fino al 2009 quando è stato introdotto da Axtrite il Yolmaster e questa era la situazione dieci anni fa. Poi vedete in dieci anni che cosa è successo? C'è stata l'esplosione, praticamente ogni costruttore ha introdotto la propria macchina, tutti i principali costruttori di strumenti, alcuni sono ancora in sviluppo, non sono tutti in commercio quelli che vedete qua dentro, però semplicemente passare da uno, due a dieci strumenti, questo riflette l'interesse dell'industria e che a loro volta l'industria ha capito che è un interesse nostro avere misurazioni sempre più precise. A questo punto in che cosa sarebbe inutile andare a esporre le caratteristiche tecniche, sarebbe noiosissimo di ciascuno strumento, però quali sono le novità principali introdotte dai vari strumenti? La prima è la misurazione dello spessore del cristallino, che una volta era possibile soltanto con gli ultrasuoni perché lo Yolmaster originale questo dato non ce lo dava, il primo a darcelo è stato fra i biometri ottici, il Yolmaster e adesso vedete che c'è tutta una sfilza di macchine che lo fanno. E perché è importante misurare lo spessore del cristallino? Perché se le formule più vecchie, la EIGIS, la OFFERQ, la OLADI1, l'SRKT non ne tenevano conto, alcune formule, e mi riferisco in particolare, più recenti e mi riferisco in particolare alla Olsen, richiedono questo dato perché basano proprio la predizione della posizione della lente sullo spessore del cristallino. E poi è utile anche per altre formule, come quella di Massimo Camelin che è qui con noi, quella di Barrett di cui si sente sempre più parlare. Seconda novità, tutti i biometri presentano un sempre crescente numero di formule che possono per certi versi generare un po' di confusione perché quando il chirurgo si trova di fronte a una stampata dove alle 3-4 formule tradizionali che usavamo fino a 2-3 anni fa, adesso teoricamente se ci fosse una stampata che ti dà 8 formule, potremmo stamparne 8, potrebbe esserci quasi più confusione che chiarezza. In realtà alcune di queste formule, nei lavori di cui citavo prima, fatti con più di 10.000 occhi, hanno dimostrato risultati decisamente, o comunque chiaramente superiori alle altre, la formula di Barrett che è un prof australiano che l'ha sviluppata per oltre 20 anni senza mai pubblicarla ed è risultata una delle più accurate in assoluto, infatti vedete che ormai c'è su tutti quanti i biometri. Terza novità importante nel campo dei biometri, il fatto che iniziano ad avere al proprio interno anziché un semplice auto care come lo Yormaster originale che aveva 6 punti illuminati sulla cornea iniziano ad avere dei topografi veri e propri, questi sono due, il Topcon e il Tomei hanno un vero disco di placido dentro e con tutte le informazioni che conoscete benissimo e tutti i vantaggi che possono derivare dal vedere un'immagine come questa anziché soltanto 6 puntini luminosi. Quali sono questi vantaggi? Prima di tutto la possibilità di identificare una precedente chirurgia refrattiva, una PRK, una LASIC. È capitato ogni tanto di vedere qualche paziente in cui qualcuno dei nostri colleghi magari dovendo fare 15 biometrie in una mattina tutte una dietro l'altra il paziente si è dimenticato di dire che aveva fatto una chirurgia refrattiva e il medico o il tecnico si è dimenticato di chiederla e il risultato refrattivo è stato lontano da quello che si sperava. Ci permettono di visualizzare astigmatismi irregolari con delle clessidre asimmetriche che possono essere un problema se vogliamo mettere delle lenti toriche ci permettono i topografi, i dischi di placido, le mappe di identificare se abbiamo delle irregolarità nella morfologia, nella curvatura della cornea che sono delle controindicazioni all'uso delle lenti intraoculari multifocali e poi semplice semplice con un disco di placido vi rendete conto al volo se c'è un occhio secco e se c'è un occhio secco con tutte le mire distorte è un motivo in più forse uno dei più importanti per non mettere lenti multifocali all'interno dell'occhio poi sì c'è un ulteriore passo avanti perché due case costruttrici anziché mettere un topografo hanno messo, hanno combinato alla biometria LAS, alla biometria ottica una Schenflug camera. Sapete cosa sono le Schenflug camera? Ce ne sono 4 o 5 in commercio in Italia quindi misurano anche il potere corneale, la curvatura e poi di conseguenza il potere della faccia posteriore della cornea e questo ha la sua utilità nel nostro campo soprattutto mi riferisco alla cosiddetta chirurgia refrattiva della cataratta perché ci permettono ad esempio, questa è una schermata del Pentacam di fare un calcolo delle lenti toriche che tenga in considerazione anche la faccia l'astigmatismo della faccia posteriore della cornea oppure ci permettono di utilizzare dei software particolari per il calcolo della lente come questo che vedete colorato a destra che si basano sul ray tracing quindi non più sulle classiche formule che abbiamo usato per 30 e passa anni ma su principi completamente diversi che non fanno più gli assunti delle formule tradizionali dove la cornea è infinitamente sottile la lente intraoculare è infinitamente sottile ma non sono infinitamente sottili, quelli sono degli assunti che abbiamo fatto noi per comodità quando abbiamo una macchina che ci misura sia il davanti che dietro della cornea possiamo usare dei parametri più realistici e poi da ultimo il passaggio all'OCT Swept Source per misurare la lunghezza assiale è un passaggio che abbiamo già vissuto quando facevamo la retina negli OCT passando dalla tecnologia Time Domain alla tecnologia Spectral Domain di cui Swept Source è praticamente un ramo e come con gli OCT della retina siamo riusciti a migliorare tanto le immagini sia in termini di qualità che di velocità di acquisizione anche qui c'è stato tre case ma secondo me nel giro di pochi anni saranno tutte così un grosso vantaggio perché riusciamo a ottenere misurazioni attraverso catarate dense come quella che vedete in questa immagine che lo YOL Master originale assolutamente non sarebbe stato in grado di ottenere e ci sono tutta una serie di dati, di studi comparativi fra lo YOL Master e comunque gli strumenti di vecchia generazione e quelli di nuova generazione in cui si vede che ormai la percentuale di occhi in cui non riusciamo a prendere le misurazioni con la biometria ottica fondamentalmente si è abbassata sotto al 2% in quei casi sapete che bisogna ricorrere alla biometria a ultrasuoni però avere uno strumento che sappiamo che almeno nel 98% dei casi ci becca rende la vita molto più semplice e questa secondo me rappresenta la novità più importante degli ultimi anni in campo biometrico e con questo vi ringrazio Grazie